e adesso che le fura gara sicuro sicuramente mi sa che il seguitore si è abbandonato e adesso ci vuole solo un magneto che lo viene così c'è meglio meglio mamma mia per quello che ha fatto quello lì era il minimo meno male che hai messo quel piede perché non so se faccio quella zona là facciamole via